Allora, eccomi qui, io sono Sabina Bonardo e di professione faccio il voice coach. Acquisito questa competenza, conoscenza circa 12 anni fa perché all'epoca il mio lavoro era quello di fare il manager in un'azienda di informatica e non ero molto simpatica, essendo anche monna. Ho avuto un'amica, mi ha invitato ad un convenio precedentemente e ad un certo punto, dopo che il relatore aveva parlato, ha chiesto se c'erano delle domande. Ad un certo punto questa voce dietro di me ha fatto una domanda, io non accordo, è la domanda. Ha fatto questa domanda e tutti si sono girati. All'epoca io facevo anche teatro e quindi sono rimasta affascinata, scusate, da questa voce. E poi, voilà, abbiamo trascorso 13 anni meravigliosi insieme, abbiamo avuto una bambina. Nel frattempo Ciro è passato dal doppiaggio e lo spiccoraggio alla formazione, ha creato un metodo, un matematico, grazie anche alla collaborazione di alcuni ingegneri del Politecnico di Torino e veramente, come il suo primo libro che dice La tua voce può cambiarti la vita, anche a me mi si è aperto un mondo meraviglioso che utilizzo anche nei momenti di difficoltà. Ho imparato anche questo. E iniziamo con... Vi share il mio desktop. Ok. Riproduci. Molto bene. La mia attività si basa proprio su questo è il logo della mia azienda, della mia attività di voice coach, cioè io creo emozione. A mio parere, rispetto agli studi fatti, agli studi che ho studiato rispetto alla voce, l'aspetto emozionale nell'emissione del cosiddetto comportamento paraverbale non solo influisce quando io emetto la parte paraverbale della mia comunicazione, ma influisce, influenza e crea contatto, distanza nella comunicazione con l'altro. Quindi il binomio comportamento paraverbale e, diciamo, la parte limbica del nostro cervello è quella parte di comunicazione, di processi cognitivi che portano all'abriazione, alla relazione con l'altro che mi affascina e che applico tutti i giorni. Infatti il mio claim è dimmi come farli e ti dirò chi sei, perché la voce racconta tanto. Innanzitutto se ci pensate, quando noi parliamo con qualcuno che non conosciamo, in base, vis-à-vis, ma anche al telefono, soprattutto al telefono, no? Che cosa succede? Io sento una voce al telefono e in automatico i miei processi mentali riescono a collocare quella persona e riescono ad attribuirgli il sesso, l'età, se la persona è a un livello alto-basso sociale, che tipo di emozionalità e umore ha in quel momento. Pensateci, vi porto un po' nell'aspetto inconsapevole della voce, perché generalmente noi non la curiamo, per quale motivo? Perché nessuno ci insegna ad utilizzarla, così come nessuno ci ha insegnato a parlare. Noi quando nasciamo siamo esposti al linguaggio e per tutti quei processi cognitivi e quella parte di genetica che c'è già nel neonato e nel feto, anche nella pancia della mamma, che cosa succede? Acquisiamo delle competenze da un punto di vista del linguaggio motorio, spaziale e così via. E quindi ci adattiamo anche da un punto di vista del suono, lo riscontriamo nel periodo dell'azione, quando emettiamo la mamma, ta-ta-ta, eccetera, eccetera, ci adattiamo ai suoni che riceviamo in base alle sensazioni che proviamo. Perché inizialmente nella nostra vita noi abbiamo un aspetto sensoriale, emozionale che ci governa, perché non abbiamo conoscenze da un punto di vista significato della parola. Se quello che mi arriva dall'esterno mi dà una sensazione piacevole, io la immagazzino come emozione piacevole o di converso, se l'emozione è negativa immagazzino quel suono, quell'informazione, quella vibrazione sonora come negativa. E poi questa man mano potrebbe essere, potrebbe riemergere quando noi facciamo le euristiche cognitive, cioè quelle scorciatoie mentali per decidere in fretta se quella persona mi piace, quella non mi piace, se mi è piaciuto quello che mi ha detto, quello che non mi ha detto. e la potremmo utilizzare poi in modo inconsapevole quando siamo più grandi. Quindi la voce influisce anche, anche da un punto di vista dei bis cognitivi. Ipotizziamo che noi parliamo con una persona che ha una forte cadenza, automaticamente cosa facciamo? Creiamo degli stereotipi e categorizziamo quella persona, anche se non lo stiamo comunicando da un punto di vista verbale. Il nostro cervello, ha già deciso, per esempio, questa persona ha una cadenza piemontese, il cervello già decide. Ah, è piemontese, è sicuramente una persona un po' più sostenuta, sarà sicuramente cortese, ma non dice esattamente quello che pensa. Ho fatto un esempio, no? E il cervello si prepara già con questo pensiero per attivare la comunicazione e la relazione con l'altro. È inconsapevole perché noi riceviamo anche una comunicazione di massa che ci fa incasellare cose, oggetti, persone in alcune categorie per poi creare quelle che nella comunicazione si chiamano generalizzazioni che non sempre sono funzionali, ma a volte servono come strategia perché noi abbiamo delle risorse finite e quindi il nostro corpo e la nostra mente una delle strategie per comunicare, muoversi, parlare e fare. Una di queste è la voce, anche se noi non la prendiamo in considerazione. E poi, visto che è un parterre di medici, lo sappiamo anche che la voce può riflettere lo stato di salute di una persona. Ci sono diverse patologie, non sono io la persona adatta nel poter parlare di questi temi, ma anche da questo punto di vista sappiamo che se la persona ci parla in un determinato modo, alcuni specialisti possono individuare potenzialmente un particolare stato di salute. Ma anche quando noi parliamo con i nostri pazienti potremmo scoprirne l'emozionalità del momento. Che cosa succede? Per esempio, faccio un esempio, se arriva un paziente che, buongiorno dottoressa, le devo dire una cosa, ecco, da un punto di vista della frequenza sonora, questo soggetto femminile o maschile che sia, che cosa fa? Tecnicamente, utilizza un tono medio-alto, non fa delle pause, ha un ritmo veloce e di conseguenza questa caratteristica sonora è attribuibile ad uno stato emotivo di ansia. Quindi, come diceva anche Daniele prima rispetto all'ascolto, se già un mio paziente mi arriva così, il mio obiettivo dovrebbe essere quello di, per un attimo, calmarlo. Anche perché ricevere una frequenza sonora di questo tipo, o siamo in grado di gestirla, ma se siamo ad esempio in uno stato emozionale particolare, non ascoltiamo quella persona. Se io magari sto già iniziando la giornata non molto bene, non sono di buon umore, mi arriva una persona che utilizza questa frequenza sonora alta, l'ansia crea ansia. Noi abbiamo, noi siamo in contatto empatico con gli altri, quindi dal punto di vista della comunicazione, quando ricevo poi do un feedback. Questo feedback è filtrato dalla mia reazione interna, prima che esterna al mondo. Quindi, probabilmente questa persona mi parla così, è il mio obiettivo, perché anch'io sono un essere umano, è quella di velocizzare quella relazione, quella comunicazione al momento e fare in modo che quella persona vada via il più presto possibile. E lo faccio in modo inconsapevole, perché semplicemente non è tanto quello che mi sta dicendo quella persona, ma è come me lo dice, che mi mette in uno stato critico. È ovvio che quando parlo con l'altro tutti questi aspetti non li vado ad analizzare, non è che posso dire, ah mi sta parlando in modo ansioso, usa il tono alto, il tono basso e così via. Non facciamo questo. Ed è per questo che imparare ad utilizzare gli elementi espressivi e imparare a capire gli elementi espressivi dell'altro mi può aiutare anche a capire com'è quella persona in quel momento, da un punto di vista emotivo. Perché mentre la voce, come dire, fa emergere lo stato emotivo, da un punto di vista del linguaggio, a seconda del contesto sociale dove io sono, potrei anche non dire esattamente quello che penso. Per tanti motivi, perché mi sento a disagio, perché ho una scarsa autostima, perché ho paura di fare una brutta figura. Ci sono tantissimi motivi per cui. E quindi nel rapporto medico-paziente dovremmo riuscire a, a mio parere, anche per altri corsi che ho fatto, a superare questi meccanismi di difesa. E l'aspetto, il comportamento paraverbale, se acquisito, conosciuto da un punto di vista, come dire, del background di com'è, può essere uno strumento che aiuta anche a gestire il nostro stress da un punto di vista lavorativo. Questo è uno studio, è lo studio di Albert Narabian, è uno psicologo americano. Nel 1971 questo studio non è mai stato confutato, anzi è stato arricchito, anzi viene anche utilizzato, come dire, in quello che viene chiamato neuromarketing, quindi su come avvicinare, allontanare una persona rispetto ad una comunicazione. Questo studio brevemente, c'è in evidenza che, è uno studio durato circa una decina d'anni, che quando noi parliamo con gli altri, l'aspetto paraverbale e l'aspetto non verbale, quindi paraverbale, il suono della mia voce, non verbale come mi muovo, incidono di più da un punto di vista del contenuto linguistico. Ora, neanche Merabian diceva che il contenuto linguistico non serve, ma, come dire, spesso noi ci prepariamo su quello che andremo a dire e poi, poiché il mondo esterno può essere non un luogo di comfort, devo fare una convention o duemila persone davanti a me, sfido qualsiasi speaker o qualsiasi relatore anche esperto a non provare un'emozione forte ad avere un parterre molto ampio. E quindi che cosa succede? che è vero che io devo costruire bene il mio contenuto linguistico perché devo avere una padronanza da un punto di vista di quello che andrò a dire per essere credibile, ma devo avere anche una padronanza della mia capacità di rendere efficace quello che sto dicendo. Perché la comunicazione, per creare poi il cosiddetto attaccamento, il ritorno, la compliance del paziente, la comunicazione non è farsi notare nel momento della performance, ma è farsi ricordare. Nel momento in cui io parlo e passa una settimana, che cosa succede? E anche da un punto di vista memonico, la nostra memoria è selettiva, la memoria a breve termine raccoglie una serie di informazioni che poi, in particolare nel sonno, vengono spostate nella memoria a lungo termine. E spesso tutto quello che ho ricevuto dall'esterno, che abbia un forte impatto emotivo, viene più facilmente memorizzato e più facilmente utilizzato quando mi succede qualcosa. E quindi attraverso appunto il paraverbale e non verbale, riesco a rendere più efficace, più piacevole la parte verbale e linguistica, che è assolutamente importante. E poi qui, quando io parlo al telefono con una persona e questa persona non mi conosce, la parte paraverbale è assolutamente predominante rispetto a tutto il resto. E qui metto anche in evidenza una differenza, vi chiederei anche di alzare un attimo l'audio perché vi faccio sentire un piccolo audio proprio di Ciro Imparato che parla proprio della voce. Perché scrivo tu parli o comunichi? Perché quando parlo non ho... e bisogna proprio capire anche questa differenza, no? Perché io ci sono momenti in cui voglio semplicemente parlare e momenti in cui desidero comunicare. Questa distinzione è importante perché quando parlo semplicemente sto esponendo qualcosa e magari perché è un momento di rilassamento, voglio chiacchierare di qualcosa piacevolmente ma senza nessuna finalità in modo particolare oppure semplicemente dico quello che devo dire e basta e non mi interessa il risultato di quella comunicazione. Ecco, questo vuol dire parlare. Se invece desidero comunicare, allora in quel momento le domande sono diverse. Cosa desidero comunicare? Cosa voglio che arrivi molto bene al mio paziente, ma questo anche in ambito più ampio, in tutte le relazioni che noi possiamo avere? Qual è la parte della comunicazione che desidero che ti arrivi veramente? E la parte paraverbale aiuta tantissimo. Vi faccio un piccolo esempio, una frase molto semplice che ripeterò con tre modalità diverse da un punto di vista paraverbale. Allora, la mia intenzione è farti capire che sono molto felice di vederti? Ciao, ma come stai? Ok, la mia intenzione è questa. Me la faccio sentire. Ciao, come stai? Tra la prima e la seconda è cambiato qualcosa. A parte che è cambiata la mia espressione facciale e, come diceva anche Daniele e Paul Ekman, lo vedremo tra poco, le microespressioni facciali vengono recepite velocemente anche se magari non riusciamo a codificarle dal nostro cervello. Però in un caso, espressione facciale coerente, elementi espressivi coerenti perché la simpatia ha un tono medio alto e veloce, ha un sorriso grande, allora quel messaggio arriva con molta più efficacia. Perché se io sono felice di vederti e ti dico ciao, come stai? Come l'ho fatto in questo momento? Non dimostra felicità nel comunicare con te. Ed è per quello, questo è un esempio che vi sto facendo su come il paraverbale influenza l'aspetto verbale della comunicazione. Eppure ho detto sempre la stessa frase, la potrei dire in modalità sempre più diverse. Ciao, come stai? Ciao, come stai? Ciao, come stai? Ok? E ogni modalità ha espresso un'intenzione comunicativa diversa. E quindi se alzate un po' l'audio del vostro Mac, tablet, piuttosto che il telefonino, perché facendo le prove ho notato che l'audio è un po' basso, ma non lo posso alzare, vi faccio sentire proprio quello che diceva Ciro Imparato, il genio, perché è stato il primo a codificare la voce, l'utilizzo della voce per i non addetti, cioè quelli che lavorano in ambito artistico, e artistico in modo professionale. Ma per tutti quanti, perché tutti noi abbiamo una voce e saperla utilizzare, vi assicuro, rende tutto più semplice, tutto. Vi faccio sentire Ciro, cosa ci dice? Ciao, sono Ciro Imparato. Piacere di conoscerti. Migliorando la tua voce, la tua vita cambierà veramente. Perché migliorare la voce significa migliorare la nostra immagine complessiva. Per riuscire a migliorare la voce, occorre sapere che voce abbiamo. E non c'è modo migliore di conoscere la nostra voce che registrarla. Che effetto ti fa la tua voce registrarla? Sì, lo so, non ti piace. E sai perché non ti piace? Proprio perché non la registri mai. Ma scusa, quando è stata l'ultima volta che hai visto il tuo viso allo specchio? Questa mattina? Quando è stata l'ultima volta che hai sentito la tua voce registrata? Sicuramente molto tempo fa. Dobbiamo abituarci ad ascoltare la voce perché è il modo migliore per avere consapevolezza e renderla più bella. Una cosa fondamentale per la tua voce è la respirazione. Perché la voce è semplicemente la produzione di un suono generato dall'aria che passa attraverso le corde vocali. Sarai in grado di avere una voce che arriva lontano e soprattutto avrai sempre fiato per qualunque cosa tu debba dire. Un altro elemento di straordinaria importanza per la voce è il suono. Quando sentiamo una bella voce negli altri, rimaniamo colpiti in maniera completamente indipendente di ciò che si sta dicendo. Tu sai perfettamente che quando una persona canta si dice che ha una buona melodia, quindi nella musica esiste una melodia che è quella che porta, quindi la canzone. Bene, nella voce esiste una cosa analoga che si chiama la prosodia. La prosodia è la capacità che noi abbiamo di intonare le cose che diciamo per raggiungere un risultato di comunicazione. Scusatemi. Bene, abbiamo sentito, mi sentite? Ok. Abbiamo sentito che cosa dice? Proprio la differenza tra la melodia e la prosodia. Vi faccio una domanda. Se doveste ascoltare una cantante o un cantante stonato, piuttosto che una band che non segue il ritmo, continuereste a ascoltare quella musica? Probabilmente no. In quel caso siamo più attenti alla musicalità perché l'udito selettivo sa che c'è qualcuno che canta o qualcuno che suona, quindi distinguiamo la batteria, se la cantante, che tipo di melodia sta cantando quella canzone. Ecco, lo possiamo fare anche da un punto di vista invece della voce, perché anche la voce ha la sua melodia che si chiama prosodia e che ci fa capire anche quando, vi sarà assolutamente capitato, sentite una persona parlare e pensate, è interessante quello che ha detto, era molto interessante il contenuto, però che palle, mi sono annoiato, scusate il termine, il francesismo. Oppure mi ha fatto venire il mal di testa. Ecco, queste impressioni di personalità che non diamo al contenuto linguistico, ma alla performance, sono date proprio dalla stonatura da un punto di vista del comportamento paraverbale. Adesso vi faccio sentire una fanciulla, infatti qui riprendendo quello che ci ha detto Ciro, che riuscire anche a sintetizzare questi aspetti, lui è stato veramente fantastico. Quindi, se non abbiamo gli strumenti accordati della nostra comunicazione, che sono il tono, il tempo, il ritmo, il volume della voce, che attenzione sono gli stessi della musica, perché la musica ha il tono, il tempo, il ritmo e il volume, uguale. Allora, che cosa succede? Vi faccio sentire una partecipante ad un mio corso che ci dirà qualcosa prima di avere fatto alcune modifiche. So che tutti voi avete dato il massimo negli ultimi tempi, in particolare sono a conoscenza dei sacrifici che molti di voi hanno messo in atto pur di raggiungere insieme l'obiettivo che c'eravamo prefissi. Io vi ringrazio di tutto ciò. Senza il vostro apporto, i risultati che abbiamo raggiunto non sarebbero stati neanche immaginati. Ok, adesso vi faccio sentire la stessa persona. Probabilmente nel primo contenuto noi possiamo dire sì, mi è piaciuto abbastanza, tra l'altro motivante, eccetera, eccetera. Ma pensate, in questa seconda performance ha cambiato due elementi della voce, che provate magari a immaginare quali e il risultato è questo. So che tutti voi avete dato il massimo negli ultimi tempi e in particolare su una conoscenza dei sacrifici che molti di voi hanno messo in atto pur di raggiungere insieme l'obiettivo che c'eravamo prefissi. Io vi ringrazio di tutto ciò. Senza il vostro apporto, i risultati che abbiamo raggiunto non sarebbero stati neanche immaginabili. Allora, quanto questa donna, probabilmente in questa seconda registrazione avete sentito anche le parole che stavo usando, perché nel testo ci sono delle parole empatiche che hanno bisogno di una voce empatica. Ok? Adesso vi faccio sentire una voce maschile che dice delle cose. Sento il dovere di esprimere serenamente la mia più sincera solidarietà per i parenti delle persone offese, purtroppo scomparse, oltre che per le persone che fortunatamente stanno ancora lottando valorosamente per la loro vita. Abbiamo apprezzato tutti la dignità e la diligenza con cui ognuna di esse, insieme agli imputati corsi e muraglia, è ok, adesso andiamo a sentire, avete capito, è un avvocato, e sentiamo il suo incipit come cambia. Sento il dovere di esprimere serenamente la mia più sincera solidarietà per i parenti delle persone offese, purtroppo scomparse, oltre che per le persone che fortunatamente stanno ancora lottando valorosamente per la loro vita. Abbiamo apprezzato tutti i tutti, la dignità in cui ognuna di esse ha seguito il processo, senza mai… È ok. Quanto questa seconda comunicazione era più credibile? Quanto si sentiva che era sentita? Quanto, come nel caso anche della voce femminile della signora precedente, quanto seguivamo questo discorso e abbiamo anche iniziato a pensare, wow, che bella persona che è. E queste due persone che avete sentito desideravano proprio ottenere questo risultato, perché dentro di loro c'era questa emozionalità e c'era questa emozionalità, apro un attimo la chat perché vedo che ci sono… ok. C'era questo tipo di emozionalità e desideravano proprio che emergesse la passione, il trasporto anche nel fare determinate comunicazioni e nel coinvolgere le persone. Ok. Non riesco… il mio mouse non riesce a chiudere questa chatina… scusate un attimo… va bene. Appena riesco a togliere la chat, che probabilmente state vedendo… No, no, noi non la vediamo. Ah, perfetto, perfetto. Ritorno al discorso che facevamo prima. Quando noi siamo credibili da un punto di vista della comunicazione lo facciamo perché utilizziamo delle espressioni facciali, quindi comportamento non verbale, coerenti con il suono della voce. E il primo, uno dei primi che ha studiato le espressioni facciali e proprio Paul Ekman, anche qui è uno psicologo, 1981, dove ha dimostrato che tutti noi esseri umani di tutto il mondo, indipendentemente dalla cultura, dalla provenienza, dalla storia, dalle tradizioni e dai valori, da un punto di vista proprio ancestrale, genetico, abbiamo per comunicare delle emozioni di base, che sono queste sei. Ovviamente la combinazione di queste sei producono poi anche le emozioni di base secondarie, ma tutti riconoscono queste espressioni perché l'esperimento è stato fatto proprio coinvolgendo popolazioni eterogenei che andavano dall'Africa, dall'Allasca, dalla Svezia, dall'Italia, dalla Spagna, dal Brasile, dal Giappone, India, ok? Anche con culture diverse e c'è stata proprio la dimostrazione che noi riconosciamo nell'altro l'aspetto emozionale. Questo spiega anche perché bambini molto piccoli, pur non essendo parlanti dello stesso idioma, riescono a comunicare, a giocare piacevolmente, anche se non si capiscono da un punto del contenuto della comunicazione, ma si capiscono perché usano il comportamento paraverbale e il comportamento non verbale in modo efficace. E quindi che cosa succede? Quando io esprimo un'emozione o desidero comunicarla, muovo questi elementi espressivi del mio volto. Così come quando parlo, dopo che li ho mossi, muovo gli elementi espressivi della voce, quindi il volume, il tono, il tempo, il ritmo e il sorriso. E perché vi faccio vedere questo video? Perché quando noi parliamo con gli altri, che cosa succede? Che, come abbiamo detto, scattano impressioni di personalità, magari tu mi stai parlando, io penso come ti devo rispondere, oppure non mi è piaciuto quello che dici e quindi assumo dei comportamenti. È una danza la comunicazione e quindi osservarla sia a livello di contenuto linguistico, ma anche di paraverbale e non verbale, è meraviglioso perché riesci proprio a capire un po' meglio che hai davanti. Ma sicuramente da un punto di vista paraverbale, così come le frequenze molto alte creano allarme e tensione, vi riporto a tutti i costrutti che abbiamo creato noi esseri umani nel mondo per l'allarme, sono tutti i suoni alti, così come se io parlo in continuazione così, vi faccio tutta la conferenza in questo modo, i primi che non mi sopportano sono gli uomini, di conseguenza anche le donne, ma i primi che non sopporteranno questa mia tonalità sono assolutamente gli uomini, perché i suoni alti creano attenzione, ansia e allarme, i suoni bassi creano, come sto facendo io in questo momento, tranquillità, perché andiamo a parlare a quel cucciolino che è dentro di noi, è sempre dentro di noi, anche se non siamo più neonati, andiamo a parlare con quel cucciolino che decide quando riceve una comunicazione da parte dell'altro se stare, attaccare o andarsene. Noi generalmente quando comunichiamo facciamo queste tre azioni e anche l'altro lo fa. E vediamo che cosa, perché in particolare imparare a modulare il tono della voce può cambiare la relazione. Guardate cosa succede. E voilà, si è addormentato. Probabilmente si risveglierà perché ha fame, ma a quella frequenza sonora bassa ha detto non ti preoccupare, ti puoi fidare. È un po' il discorso che ha fatto inizialmente Giorgio di quanto la fiducia sia importante. Ecco, da un punto di vista paraverbale, perché magari io ho veramente dei contenuti di valore, veramente delle informazioni importanti, ho veramente dei risultati scientifici eclatanti, ho veramente il desiderio di aiutarti, ho veramente il desiderio di creare benessere prima che cura, ma un tono basso di voce per esempio crea quella fiducia che desideriamo trasmettere agli altri. Perché stiamo parlando, come a questo cucciolino neonato, alla parte rettiliana del nostro cervello, a quella che decide le prime azioni. Quindi imparare proprio a modulare la voce e a percepire la modulazione dell'altro, migliora molto la comunicazione. Vabbè, questo magari lo vedremo quando faremo il corso insieme. Dico, dall'altra parte però per riuscire a parlare anche come sto facendo io, quindi ci sono dei momenti che vado veloce, rallento, degli altri che abbasso la voce, l'alzo eccetera eccetera, abbiamo bisogno di utilizzare la respirazione diaframmatica. Su questo potremo fare poi insieme dei bellissimi esercizi a giugno, il 21 giugno, dove attraverso la modulazione della respirazione cambio il mio mood interno. Perché la vita ha bisogno di ossigeno e quindi avere anche un buon utilizzo della respirazione diaframmatica o della respirazione toracica, le vedremo tutte e due, ci cambia le sensazioni interne anche da un punto di vista emozionale. Potremmo essere più preparati da un punto di vista di uno speech, di una performance, di una relazione, di una sprecazione, di una diagnosi, della proposta di alcuni trattamenti e così via. Anche il saper modulare la respirazione ci aiuta. E vediamo un po', le abbiamo visti anche un po' prima, vi do una ripassatina veloce, gli elementi espressivi, tono, tempo, ritmo e volume determinano il colore della comunicazione. Il mondo è tutto un colore, siamo pieni di colori, noi non viviamo in bianco e nero, anche da un punto di vista visivo. Quindi anche la nostra voce esprime un colore e quindi saperli miscelare ci dà l'opportunità di, come dire, aderire alla circostanza del momento. Perché per decidere se voglio quella relazione o desidero allontanarla, è importante saper gestire il comportamento verbale della comunicazione. Perché io riesco a intonarmi, da un punto di vista anche musicale, o scollarmi da quello che sta accadendo nella relazione. E tra poco ho concluso. Che cosa succede? Che attraverso poi, mi farà anche un breve cenno anche Fabio, perché anche lui è un official for voice caller trainer, che cosa succede? Che se io imparo le varie fasi della comunicazione, nella relazione con l'altro e anche ovviamente con il paziente. E imparo, la parte appunto, imparo, che non è così, la svegliamo, la tiriamo fuori, perché ognuno di noi lo fa, ma non lo vede come uno strumento da utilizzare in modo ripetitivo e non casuale. Ok? Quindi, se io riesco ad accordare il mio comportamento paraverbale, il mio comportamento non verbale con la fase della comunicazione che sto avendo con il mio paziente, con il linguaggio corretto, è più facile, è meno stressante, è più efficace gestire quella relazione. Piuttosto che basarmi solo sul contenuto linguistico, che a volte non è sufficiente per darci tutte le informazioni della persona che abbiamo di fronte in quel momento. A volte, nella professione medica, adesso ve lo faccio vedere, magari abbiamo un paraverbale e un comportamento non verbale sempre lo stesso. Incontriamo i nostri pazienti e il nostro atteggiamento, tra virgolette, professionale ha sempre la stessa modalità. Succede, ho incontrato anche dei medici che quando sono, diciamo, in versione medico usano questi elementi espressivi e sicuramente viene fatto in modo inconsapevole sempre con la stessa modalità, indipendentemente dall'efficacia oppure no. Io sono così e parlo. La metacomunicazione è io sono così e parlo così. Però che cosa accade? Che se invece io voglio sviluppare una relazione cordiale, creare ascolto e costruzione della relazione, condividere la diagnosi e quindi anche l'adesione e stabilire una relazione umana. Noi torniamo sempre da coloro pensatici, anche nella vita di tutti i giorni. Noi ritorniamo da chi ci ha fatto star bene. Che star bene non è il bene assoluto. Ah, quel dottore, guarda, sto benissimo. Star bene vuol dire magari che mi ha ascoltato, vuol dire magari che abbiamo trovato una soluzione insieme, vuol dire che quando sono entrato, indipendentemente dal mio problema, dalle mie difficoltà, dipende dall'ambito appunto, ho trovato in generale un clima piacevole. Il paziente torna e non solo, diventa anche il nostro follower. Perché cosa succede? Che se io ho una buona relazione come paziente, tenderò a consigliare quella persona ad altre persone. Lo facciamo tutti nella nostra vita magua. Se questo problema vai da Mario perché lui te lo risolve, per esempio, nella vita di tutti i giorni. La stessa cosa da un punto di vista medico. Se io parlo con un mio amico o una mia amica e gli dico che ho un problema, magari lei che si è trovata bene, non solo per la risoluzione del problema o per l'accompagnamento alla terapia, ma nell'insieme, me lo consiglierà. Perché nel suo cervello quella persona è stata immagazzinata come in memoria. E quando noi parliamo a livello memonico tiriamo fuori le informazioni che sono più facilmente fruibili. Il nostro cervello cerca i percorsi che generalmente fa quando parla o fa una determinata azione. Non va a cercare quelli più difficili, proprio perché ha bisogno di quelle di cui abbiamo parlato prima, delle euristiche. Allora, che cosa succede? Ipotizziamo che c'è una relazione medico-paziente e il medico ha sempre una voce grigia. Che cos'è la voce grigia? È la voce un po' apatica. Prego si accomodi e mi dica come mai è qui, quanti anni ha? Cioè questa modalità un po' cantilennante eccetera eccetera. Questa modalità che cosa fa? Dà l'impressione, questa è l'impressione che arriva al mondo esterno, che questo medico non è interessato all'aspetto emotivo, cioè non è interessato a chi ha di fronte. E quindi chi ha di fronte può provare un senso di frustrazione e non è detto che te lo comunichi. Oppure abbiamo i medici che si arrabbiano, ci sono. Gli ho detto che doveva fare così, no? Che hanno sempre un po' questo atteggiamento un po' burbero, quindi l'aspetto paraverbale va un po' verso l'altro, è veloce, è rapido, oppure va verso il basso e cavernoso, non sorride. Questo medico viene percepito poco umano, magari assolutamente competente e bravissimo, però l'aspetto umano viene a mancare. Oppure possiamo avere un medico sempre molto simpatico. Sono delle eccezioni ovviamente perché la vostra professione è molto importante, quindi sorridete, ma non è che siete, come sono felice di riderti, cioè assolutamente ne sono consapevole. Ma ipotizziamo che un medico sorrida sempre e abbia sempre questo atteggiamento eccessivamente disponibile. Anche in questo caso genera simpatia e grande coinvolgimento, ma poca empatia e poca autorevolezza. Non si presume che questo medico sia particolarmente competente o che possa ascoltare i miei problemi, per esempio. Oppure potremmo avere un medico che sempre ha questa voce verde che è anche empatica, quindi è molto amicale. Anche in questo caso, se il medico è troppo empatico e se tra di voi ci sono dei medici molto empatici, sono quelli che praticamente i pazienti li raccontano tutti i loro problemi, non solo il motivo per cui sono venuti in studio, ma tutto quello che succede fuori, cosa è successo a mia sorella, al mio cane di qua, cioè vi raccontano tutta la loro vita, che magari a seconda della specializzazione può essere utile, ma in altri casi no. Quindi c'è una relazione troppo empatica ed è più legata al sono venuta qui per farmi ascoltare, quindi della tua competenza tecnico-scientifica mi interessa molto poco, a livello di metacomunicazione, non è che io lo esprimo, è un aspetto metacomunicativo inconscio che il paziente può avere. Oppure un medico che ha sempre la voce blu, che cos'è? Quelli che sono autorevoli. Buongiorno, questa è la terapia, lei deve fare così, la posologia è questa, adesso uso queste parole, ma ho qualche difficoltà perché ovviamente non conosco benissimo il vostro linguaggio tecnico. Comunque è molto direttivo nel comportamento, sempre. Che cosa succede? La relazione è fredda, magari vado da lui perché è molto competente, ma magari ho anche qualche riserva a raccontargli qualche cosa e magari dipende anche dalla mia autostima come paziente, magari non ci vado più perché è troppo quel medico, sa sempre tutto lui, possono uscire anche fuori questi tipi di comunicazioni anche fatte con persone che conosco fuori da quell'ambito. Per quanto quella persona sia estremamente competente, autorevole, avere sempre un paraverbale, un non verbale troppo autorevole, quindi costantemente crea freddezza e distanza. E quindi magari io posso dire sì farò così dottore e poi dopo quando non ci vediamo non lo faccio. E poi in ultimo, anche qui, essere particolarmente motivanti, quindi molto appassionati in quello che si sta facendo, come dire, crea un grande entusiasmo iniziale, quindi se uso quello che vi ho fatto vedere è quando uso sempre quella modalità di comunicazione in continuazione, rimango sempre su quell'aspetto prosodico, quindi non cambio mai mentre sto parlando, mentre mi sto muovendo, mentre sto gesticolando, ma uso sempre quelle caratteristiche. E quindi anche qui se sono sempre molto appassionato, probabilmente attiro dei pazienti che hanno bisogno di essere accompagnati proprio nella motivazione, come se fossimo degli allenatori e quando poi questo trasporto emotivo scende, anche qui c'è un allontanamento proprio all'adesione sia nella compia sia nella relazione, perché quel paziente è venuto lì per essere motivato, non per aderire alla terapia. Ecco, se vorremmo, colpa mia, se vorrete approfondire proprio come utilizzare l'aspetto paraverbale della voce, quindi riconoscere i vostri elementi espressivi, riconoscere gli elementi espressivi degli altri e utilizzarli in modo inconsapevole, come dire, vi aspettiamo il 21 giugno 2020 con quella che è rivoluzione digitale, comportamento paraverbale, perché esiste, come dire, una comunicazione, chiamiamola analogica, quindi quella che noi facciamo di persona quando siamo a contatto con gli altri, ma esiste anche la parte digitale, quello che sto facendo io oggi in questo momento con voi è un aspetto digitale, il paraverbale è filtrato dagli strumenti e anche il comportamento non verbale deve essere gestito in un determinato modo. E in più poi c'è la parte, appunto, che vi presenterà fra poco Fabio, che riguarda proprio la comunicazione nel digitale, che è diversa da quella, quindi l'immagine che io do al mondo quando ci incontriamo nel mondo reale deve essere gestita in modo diverso come brand nella parte digitale e lo vedremo insieme con Fabio. Con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al mio amico Fabio. Grazie.